Ok, sono montato nel video per oggi e mi sono accorta che non aveva fatto l'inzio, quindi adesso c'è un'ora Sì, sono ferma a un parcheggio, mia mamma è andata al sistema della motosega, quindi ovviamente non lo so usando il telefono mentre guido, perché letteralmente sono ferma Comunque, niente, in questo video andiamo a fare, vado a fare per la prima volta a mensa Ci sono andata anche il giorno dopo, vi faccio già spoiler, è buono e soprattutto a me conviene Comunque vi lascio andare mentre noi stavamo andando alla mensa Io, Rachele, è una sua amica e quindi non mi ricordo il nome, scusate, ma faccio schifo con i nomi E me l'ho presentata a mesi qua, quindi rendiamoci conto Siamo andando Eh, tre, io ho il limite, ho l'iseb minimo e quindi ho tre Se ci prodiamo non è colpa mia, è colpa di Rachele No, comunque, te lo siamo, te lo dimentico è sui tuoi Se non mi ammazzo Saluti, che che White chocolate Stanno andando alle lezioni, dopo quando vado nel treno, vi spiego bene Comunque mi sono buona la mensa, sono trovata bene che hanno un problema con la carta E niente, abbiamo fatto, questa è la prima volta a sto bar, è buono E costa poco, tipo lo Starbucks dei poveri, ma è buono E ci hanno dato anche la carta, tipo, ogni dieci a fare una bibita gratuita Quindi, niente, ora vado a lezione Ok, per sempre, per sempre, mi ero abituale a parlare con la gente intorno Allora, oggi ne ho filmato molto perché non c'ho solo Rachele Ma è anche una sua amica E, appunto, mi sto abituale a parlare con la gente che non conosco intorno E del cos'vicinano E, adiosi Comunque Comunque, sì, ok Allora, siamo andati alla mensa E sia la mia carta che la di Rachele Non funzionava Cioè, non la leggeva Infatti, mi è chiesto, se la lì, però c'è questa sia nuova Noi, abbiamo detto sì E poi ho detto che ci vuole una quindicina di giorni perché sei attivi Non è più di quindici giorni perché l'ho fatta a gennaio, lei a marzo Quindi, niente, ho detto di aprire un ticket Meno male, la mensa, sei d'altro numero di mazzicola Dice la tua fascia di reddito E, boh, è a posto così E, infatti, abbiamo mangiato lì, come avete visto Era molto buono, niente da dire Buonissimo Questo lavoro c'era anche il pane in mono E c'era anche l'acqua Perché c'è il distributo gratuito Perché anche chi studia può prenderla Ma io ho la mia bollaccia Quindi, in realtà, anche sia la Rachele che l'altra ragazza Che non mi ricordo il nome Anche se me l'ha detto, non me lo ricorderò mai E quindi, niente, è molto comodo Forse si può anche riempire la bollaccia Ma sinceramente non ci ho pensato Credo che ci andrò qualche volta Cioè, non sempre appunto Però, in realtà, è molto vicino E letteralmente è la sala che faccio io Per andare all'università e tornare indietro E il navigatore da sei minuti Ma ce ne vuole tre, quattro Andando piano E appunto, in realtà, il cibo cambia tutti i giorni Oggi, tipo, c'era Mi ricordo la pasta Che potete scelere fra pasta al sugo O pasta al pesto Però io Cioè, io e la ragazza Mi hanno scelto il sugo Dà che è la peste Poi, tutte e tre Abbiamo preso la rossa delle patatine fritte Molto buone E, in realtà Poi, ah, c'era anche tipo una zucca E la melanzona di piena Mi ricordo Perché ho visto che una ragazza c'aveva E c'era varia frutta fra cui sceglie Fritti banane, mele, eccetera Ma io ho preferito il dolce E c'erano altri contorni Se non volete Patatine E, in realtà, io Non avendo preso il pane Forse è un'altra cosa Che non mi ricordo la cosa In realtà ho fatto Sperato 2,50 Non 3 euro Non mi ricordo più 2,50 Che fascia di Cioè, quale menu era Però va bene E, in realtà, poi si può anche scegliere La pizza Che è proprio fatta lì sul momento Gli hamburger E il tipo di insalata Pochè c'era anche chiuso Quindi E poi siamo andati a un bar Tipo Osteria Starbuck Ma dei poveri E ho preso il cioccolato bianco Il white chocolate Piccolo Anche se, vabbè Poi mi la metto di più fuori Ma chi se ne frega E qua c'è un botto di gente Ok E adesso stiamo andando Ci stanno andando a prendere il pullman Il treno Il pullman, vabbè Sono uscita a stare tipo Prima da casa Perché non ne potevo più E così non faccio come ieri Che devo correre E arrivo al pelo E Noi andiamo alla mensa Principe Medeo Ed è approvata Molto approvata